Non è colpa della banca se Luigi D'Angelo ha deciso di farla finita dopo aver perso tutti i suoi risparmi investiti in Banca Etruria. La procura di Civitavecchia ha chiesto l'archiviazione del caso relativo al suicidio del pensionato che il 28 novembre 2015 si tolse la vita dopo il decreto salvabanche. D'Angelo aveva investito 100.000 euro in obbligazioni subordinate di Banca Etruria acquistate nel 2013. Aveva lasciato un biglietto chiarissimo non per i soldi ma per lo smacco subito e poi chiedeva scusa a chi gli voleva bene. Nessuna isticazione al suicidio secondo i magistrati che hanno chiesto l'archiviazione. Proprio quella morte invece è stata considerata il simbolo della mala gestione delle banche e del modo in cui questi prodotti venivano collocati sul mercato e venduti a persone che di certo non possono essere considerate degli speculatori. Proprio sul modo con cui D'Angelo aveva acquistato questi prodotti c'è il sospetto più forte. Secondo la vecchia Banca Etruria le obbligazioni erano state acquistate da un terzo ente e poi ricollocate sul mercato ma c'è la testimonianza di un ex dipendente che sostiene di aver venduto lui quei prodotti al pensionato.